buon pomeriggio buonasera qui sono le 4 meno 10 infatti mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's december 17 2021 e if you can believe it it's a Friday once again it's a Friday once again è friday una volta, e come ogni friday, ho messo la mia figlia con questo fantastico elettrico razor, blu, gray and black razor, molto cheap, solo 10€ o meno, quindi molto great. Here in Naples, 57 Fahrenheit, around 14 Celsius, e questa è quella giornata veramente 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 mite, in questi giorni e in questo periodo, poi innanzitutto volevo fare una correzione su ieri, per quanto riguarda l'anniversario di uscita del Signore degli Anelli, in realtà a Londra, nel Regno Unito, è il 19, quindi non mi ricordavo bene, così come anche in altri paesi, il 19, mentre ieri si trattava dell'anniversario della premiere negli USA, negli States, dalle parti vostre, ma ho corretto con la descrizione, ma non ci sono problemi perché, perché diciamo, comunque il 19 caricherò altri pezzi di altri film, penso, o comunque anche nei giorni a seguire, e quindi non ci sono problemi perché ci troviamo con, più o meno con i giorni, l'anniversario di uscita del suo primo film, Il Signore degli Anelli, poi domani comunque, credo, caricherò un altro pezzo, un altro anche dopo domani, vediamo, quindi comunque siamo lì con i giorni. Poi pensavo alla nostra serie musicale, Switch and Friday, One Seaghi, sedicesimo episodio, dovrei caricare più tardi, se tutto va bene, poi vedrete voi stessi dal video su che cosa, su quale pezzo o pezzi si baserà, poi ovviamente aggiungo sempre i link in descrizione per tutto quanto riguarda il resto, di tutte le altre cose. comunque, come vedete dalla finestra, oggi abbiamo, abbiamo, una volta di nuovo, questi bellissimi occhi blu, e la città di giro, sono come luccica, e penso, per tutto il resto, la giornata lo avremo, a meno fin quando non sopraggiungerà la sera, cioè tra un'ora, meno di due ore, bene, bene così, nulla da aggiungere, sedices, so, from the mythical window, the car and the curtain, sublime oggi, nulla da dire, and it's green roller shooter, behind me, on the top, all air in the shot, and finally, from the mythical keyboard, Yamaha di GX, 640, IPG, IPG, 625, EV, a great day in, all the people, follow the channel, the reports, si, un saluto veramente a tutti, per quanto riguarda la musica, è sempre mia interpretazione, sono alcune mie interpretazioni, di ovviamente, Dance of the Dream Man, di Angelo Badalamenti, per chi è interessato, inserisco il link dei video, più l'audio appunto, e quindi si, so, again, a great day in, all these people, and everyone too!